Qui è morta la speranza dei palermitani onesti e quanto si leggeva in un improvvisato cartello scritto da un anonimo è apparso il 4 settembre del 1982 sul muro di una casa di via Carini davanti a dove la sera prima erano stati assassinati Carlo Alberto dalla chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'unico agente di scorta, Domenico Russo. Quella strage accaduta nel cuore di Palermo a poche centinaia di metri dalla prefettura rimane una delle pagine più oscure del nostro paese riguardo gli intrecci tra la politica e la mafia. Dalla chiesa era stato inviato in Sicilia come prefetto agli inizi proprio di maggio del 1982. Nei mesi precedenti la sua azione investigativa e quella dei suoi collaboratori avevano permesso di individuare e arrestare gli esecutori materiali dell'omicidio di Aldo Moro e della sua scorta. Alla fine del 1981 venne nominato vicecomandante generale dei Carabinieri, qualche mese più tardi l'incarico a Palermo. Poco dopo la nomina pubblicamente lamentò la carenza di sostegno da parte dello Stato fino al punto di dichiarare «mi mandano in una realtà come Palermo con gli stessi poteri del prefetto di Forlì». In una intervista concessa al giornalista Giorgio Bocca il 7 agosto di quello stesso anno denunciò il fallimento dello Stato nella lotta a Cosa nostra, ipotizzando convivenze e complicità con chiaro riferimento ad una certa politica che da anni consentiva a suo dire alla mafia di agire indisturbata. Nei 27 giorni successivi quell'articolo di stampa non si registrò alcuna reazione da parte dello Stato ma la sera del 3 settembre arrivò spietata quella della mafia. Carlo Alberto dalla Chiesa alle 21 esce dalla prefettura. È a bordo di una A112 guidata dalla giovane consorte sposata soltanto poche settimane prima. Lo segue la scorta. In via Carini le due automobili vengono affiancate. A parlare sono i Kalashnikov imbracciati da Antonino Madonia, Kalogero Ganci e Pino Greco. Per i due coniugi non c'è scampo. L'agente russo rimane ferito e morirà qualche giorno più tardi. Durante le esequie tenutesi nella chiesa di San Domenico di Palermo il cardinale Salvatore Pappalardo nell'Omelia pronunciò citando Tito Livio queste parole, parole pesanti. Mentre a Roma si pensa sul da fare la città di Sagunto viene spugnata dai nemici e questa volta non è Sagunto ma Palermo. Povera la nostra Palermo. Grazie.